La verità sta in quelle note scritte davanti a te e tu devi essere semplicemente onesto nei confronti della musica e cercare di donare emozioni. Lui è Francesco Ivan Ciampa, direttore d'orchestra di fama mondiale nato ad Avellino, che in questi giorni sta dirigendo la traviata di Giuseppe Verdi al Teatro San Carlo di Napoli, con la regia di Ferzan Ozpetech. Teatro San Carlo di Napoli, siamo qui con un'eccellenza, un maestro, Irpino Francesco Ivan Ciampa, adesso direttore d'orchestra qui al San Carlo con la traviata. Per la traviata, sì, innanzitutto grazie per la presentazione. Essere qui è una gioia infinita, anche perché reputo questo teatro forse il più bello del mondo. E lo dico dopo averne visti veramente tantissimi ovunque, ma questo sarà che da piccolo venivo ed ero lì in piedi, quando ancora si poteva stare in piedi in platea, a vedere tutti i grandi, non so, Abba, Domuti, Pretre. Ed essere qui, consapevole del fatto che su quel podio ci sono stati tutti i grandi della storia, è una cosa che fa tremare i polsi, ma dà anche un'energia incredibile, perché poi bisogna sempre ricordarsi che la verità sta in quelle note scritte davanti a te e tu devi essere semplicemente onesto nei confronti della musica e cercare di donare emozioni. Parliamo di questa traviata, è il regista, grande regista, Ozpetech. Quindi, com'è lavorare con lui? È come lavorare con tutti i grandi artisti. Si parte da una parola che spesso forse è usata troppo, ma in questo caso è vera, che è l'umiltà. L'umiltà, i grandi hanno sempre l'approccio verso i capolavori con la semplicità e con rispetto, soprattutto. Quindi tutto il mese passato nella costruzione è stato un mese fatto di domande, fatto di chiedersi il perché facciamo determinate cose. Quindi questo è sempre un elemento che ti fa crescere nel percorso artistico. Tu hai girato quasi tutti i teatri del mondo, sei diretto, in maniera egregia. Parlaci di qualche tua esperienza, qualcosa che ti è rimasta particolarmente nel cuore, per poi arrivare qui a Napoli, chiaramente. Allora, proprio ecco, il titolo che sto dirigendo adesso al San Carlo, che è La Traviata, è quello che forse ho diretto di più. Non avrò fatto almeno 150 recite, credo. Con tutte le prove, tutte le prove di assieme, prove di regia, non so quante volte ho sfogliato quella. Senza considerare le ore infinite di studio precedenti, è quello che continuo a fare. Quindi è il titolo che più mi ha dato la possibilità di vivere i teatri e veramente ne ho visti tantissimi grazie alla Traviata. Ho debuttato a Traviata a Parigi, l'ho fatta a Londra, l'ho fatta a Tokyo, non so, e ne farò tante altre, tipo debutto a Zurigo, a Monaco, ancora Traviata. La cosa più affascinante è che ogni volta che si sfoglia un capolavoro scopri cose che non avevi visto, cose che, ma non che non avevi visto, magari avevi visto, ma non avevi focalizzato in base ad altri punti di vista. Perché questo è il bello dell'opera, a differenza del cinema. Al cinema tu vai e impari la storia guardandola, a teatro viene a vedere Traviata, tutti sanno come si svolge la storia, che morirà, tutti sanno la storia, la trama si conosce. Il punto è come tu disegni il percorso di questo personaggio e di tutti gli altri personaggi, come ci arrivi a quel punto. E quelle emozioni che Verdi ci ha donato, sono emozioni che noi viviamo tutti i giorni della nostra vita, solo che sono amplificate, sublimate dall'arte. E noi non dobbiamo mai dimenticare che siamo mezzi. Non siamo il punto più alto della piramide, ma siamo il mezzo che arriva dall'anima all'anima. Bisogna rompere questo muro ideale di vetro che c'è tra chi esegue e chi ascolta. Perché sembra sempre che siano due mondi separati, invece bisogna proprio avere il coraggio di distruggere questo e far sentire il pubblico protagonista di una storia. Quando tu sale su quel palco, o meglio, sei in mezzo all'orchestra, ecco, all'inizio, le sensazioni che ci sono? Ogni sera è sempre nuova e sempre diversa. La cosa bella è che tu di fronte hai tantissime persone, ognuno di loro ha un suo percorso, una sua vita e arriva in teatro dopo un percorso anche della giornata diverso, che può essere nervosismo, gioia, allegria. Ma quando si è tutti lì, il compito del direttore è proprio quello di mettere in equilibrio il battito di ognuno. E ci vuole tanto coraggio anche. Certo. Sicuramente è fondamentale la tecnica, ma è poi un gioco di scambi di sensazioni. Poi c'è sempre l'empatia col pubblico, perché il pubblico poi ogni sera è diverso, quindi non puoi mai prevedere la reazione. Perché basterebbe, ecco, noi abbiamo vissuto questo periodo assurdo della pandemia, dove io mi sono trovato a fare delle opere o anche concerti senza pubblico e quindi in streaming. Il fatto stesso di non percepire la risposta, ma anche del respiro del pubblico, del rumore, tra virgolette, del pubblico, rendeva tutto alienante. E invece quando c'è il pubblico tu senti che quel passaggio può dare qualcosa fatto in un altro modo, magari che non avevi nemmeno provato in quel momento. Quindi quella sensazione ti può aiutare a trovare nuove emozioni. Tu sei partito da Avellino, una piccola realtà di provincia. Per un professionista affermarsi a livello nemmeno nazionale, mondiale, quante difficoltà appunto ci sono partendo proprio da una città comandante? I sacrifici più grandi sono quelli di stare lontani dagli affetti e dalla famiglia, perché spesso capita. Adesso sono stato con Domingo proprio a Tokyo, Osaka e Seoul. È un mese lontano da casa, lontano dalla famiglia. Ma questo è veramente un grande sacrificio. Sembra tutto meraviglioso, ma alla fine poi ti trovi sempre tu di fronte ad una partitura da solo. Soprattutto il lavoro, se così si può dire, del direttore d'orchestra implica proprio questo. Cioè hai di fronte a te 200 persone, se sei in Arena di Verona ancora di più. E poi sei continuamente solo a cercare sempre una chiave nuova, a cercare di rinnovarti, perché poi è tutto lì. Nessun percorso di studio a termine. Scopri cose nuove e devi proprio inseguirle. Questo è il bello. Hai un sogno per... ecco parliamo sempre di Avellino. Tu sei nato da Avellino, cosa ti piacerebbe in un futuro magari fare per Avellino? Di sicuro costruire dalla base... ecco come si sentono questi rumori che io amo tantissimo. Non scherzo, i rumori del palcoscenico. Costruire questo dalla base, un'orchestra, un coro, qualcosa che venga dal territorio, dalle radici della nostra città. Perché è una città che amo, perché ci sono nato e ci sono cresciuto. E vedere che il teatro non sia aperto 364 giorni all'anno, mi rende un po' triste. Perché veramente sarebbe questa forse la cosa più importante da fare, ma non soltanto invitando da fuori. Cercando di costruire con tutte le forze che abbiamo noi, perché ci sono validissimi musicisti, che sono invitati anche al San Carlo o in altri grandissimi teatri, che però non riescono ad esprimere la loro arte nella loro città. e questa cosa penso che sia forse il vero inizio di un percorso da perseguire. Noi ti lasciamo il tuo lavoro, sei stato veramente gentilissimo. Gentilissimo e voi. E veramente è stata una grande emozione essere qui in questo teatro, in bocca al lupo, e ti auguriamo le cose più belle per la tua vita e per la tua carriera. Tra l'altro sei diventato da poco papà, no? Eh sì, questa è l'opera più bella che ho fatto. Grazie anche a mia moglie, ovviamente. Grazie. Grazie. Grazie.